ciclicamente da quando ho aperto questo canale c'è un argomento che non ho mai affrontato adeguatamente mea culpa e che ciclicamente torna a riproporsi sotto forma di domande nell'ambito della community e questo argomento è il file di paging uno strumento in grado di migliorare incredibilmente le prestazioni del nostro computer oppure al contrario di affossarlo in maniera quasi definitiva le domande che si affollano sono più o meno sempre le stesse devo tenerlo attivo oppure disattivo se lo tengo attivo le dimensioni devono essere gestite automaticamente oppure devo impostare una dimensione fissa come mi devo comportare se ho 4 giga 8 giga o 16 giga di ram se sono un gamer che cosa devo fare e se uso applicazioni office e se ho un disco ssd so che migliora le prestazioni del computer ma dall'altro lato ne riduce la vita che cosa mi consigli insomma il file di paging è un argomento molto complesso che come ho detto nel mio ultimo video sull'ottimizzazione ho evitato di affrontare in quella sede per evitare di farti una cosiddetta capatanta ma questa volta andiamo con estrema semplicità a vedere esattamente com'è e soprattutto come puoi impostarlo al meglio sul tuo computer anche perché questa è un'ottimizzazione che nessun programma può fare automaticamente al posto nostro e allora bando alle ciance e andiamo a vedere come si fa ti senti pronto iniziamo il file di paging assume anche il nome di paginazione della memoria o almeno in italiano si chiama così anche se è un termine che non utilizza nessuno e la prima cosa da fare naturalmente se vogliamo gestirlo è prima di tutto capire che cos'è il file di paging e allora facciamo come tutti che quando non capiamo qualcosa lo chiediamo a wikipedia e infatti prontamente vediamo che wikipedia ci informa che la paginazione o paging in informatica è la tecnica attraverso la quale il sistema operativo del computer per mezzo dei rispettivi algoritmi di paging suddivide la memoria in parti di dimensioni minori e la alloca al programma da eseguire utilizzando pagine come blocco minimo di lavoro va bene va bene ho promesso che questo sarà un video facile e quindi restiamo sul semplice la prima cosa che capiamo è che la paginazione o paging della memoria è una cosa è il file di paging invece è un'altra e queste due cose non vanno confuse la paginazione è la tecnica che viene adottata per creare il file di paging e quindi in questa sede a noi della tecnica interessa tanto poco quanto niente e quello su cui ci andremo a concentrare è invece la gestione del file di paging quest'ultimo è lo strumento fisico che viene utilizzato dal nostro computer per far fronte ad una situazione ben precisa ovvero nel momento in cui la ram del computer è completamente occupata e i programmi che stanno girando avrebbero bisogno di ulteriore ram per capire meglio questo concetto possiamo immaginare i dati come se fossero dell'acqua e la ram come se fosse un contenitore ad esempio un bicchiere nel momento in cui il bicchiere è insufficiente a raccogliere tutta quanta l'acqua che vi viene versata viene prelevato sotto il nome di file di paging dello spazio dal disco rigido che viene aggiunto come se fosse un secondo bicchiere virtuale in modo tale da poter contenere tutta l'acqua che serve ed evitare che il pc vada in crisi quindi maggiore sarà la quantità di ram che avremo a disposizione sul nostro computer e meno avremo bisogno del file di paging fino ad arrivare ad un punto in cui potremo farne assolutamente meno e andare a disabilitarlo tuttavia è impossibile dire a priori se 4 giga 8 giga o 16 giga di ram siano in assoluto una quantità di ram tale da consentirci di fare a meno completamente del file di paging e questo perché la differenza vera la fanno anche i programmi che andiamo ad utilizzare infatti useremo programmi che hanno bisogno di molta memoria come ad esempio photoshop autocad tutti quanti videogames e nel suo piccolo anche lo stesso chrome probabilmente sarà necessario comunque avere il file di paging attivo anche se disponiamo di una ragguardevole quantità di ram ma allora come faccio a capire se nel mio caso di specie posso disattivare il file di paging o se devo tenerlo attivo e soprattutto qual è la differenza al di là della quantità di ram virtuale disponibile tra un file di paging attivo è un file di paging disattivo la differenza è che la ram fisica quella installata sul tuo computer è molto più veloce rispetto a quella virtuale quindi se per caso tu riuscissi ad utilizzare solamente quella il tuo computer ne trarrebbe un enorme giovamento in termini di velocità a lato pratico tuttavia questa è una condizione che si verifica molto raramente perché se da un lato è vero che i computer hanno sempre più ram col passare del tempo è altresì vero che i programmi che utilizziamo diventano sempre più esosi in termini di richieste di risorse hardware e quindi per quanto la ram possa essere tanta nella maggior parte dei casi vanno a consumarla tutta e allora l'unico consiglio vero e reale che posso darti è quello di andare a fare un test e vedere sulla tua macchina com'è realmente la situazione se sul tuo computer è installata quella che al giorno d'oggi può essere considerata una quantità considerevole di ram e quindi auspicabilmente 16 giga ma se vuoi puoi fare la prova anche con 8 giga la prima cosa che dovrei fare sarà andare a disattivare il file di paging per farlo ti porterai qui in basso sulla lente di ricerca digiterai prestazioni qui in alto sulla lente di ricerca ed effettuerai la ricerca quello che ti interesserà sarà questa icona qui quella che dice modifica l'aspetto alle prestazioni di windows a questo punto ti porterai qui in alto nella sezione avanzate e una volta aperta questa sezione andrai a cliccare sul pulsante cambia nello spazio riservato alla memoria virtuale fatto questo toglierai il segno di spunta gestisce automaticamente le dimensioni del file di paging e andrai a selezionare la voce nessun file di paging questa qui cliccherai quindi sul pulsante imposta cliccherai su sì per confermare di voler disattivare il file di paging cliccherai quindi su ok nuovamente su ok e andrai a riavviare il tuo dispositivo una volta riavviato quello che dovrai fare sarà andare ad aprire contestualmente tutti quanti i programmi che consumano maggior ram e che usi di solito insieme ad esempio google chrome e autocad google chrome è un videogame e così via io in questo caso non disponendo di un videogame installato su questa macchina aprirò contestualmente edge e chrome tanto per fare un esempio fatto questo dovrai premere la combinazione di tasti ctrl shift ed esc e nella finestra che si aprirà dovrai andare sulla voce prestazioni aperta la finestra delle prestazioni dovrai guardare la situazione della memoria questa qui e valuterai se la memoria utilizzata quella che vedi evidenziata in violetto nel mio computer arriverà al massimo a due terzi di occupazione della ram complessiva in questo caso potrai valutare anche di tenere disattivato il file di paging sul tuo computer ma nel caso in cui la ram dovesse arrivare al massimo o anche poco sotto il massimo ti consiglio di riattivare il file di paging naturalmente per farlo ti basterà fare l'operazione che ti ho appena mostrato esattamente al contrario andando quindi a riattivare il file di paging e mi raccomando ricordandoti di cliccare sul pulsante imposta e successivamente riavviando il computer come umano lei e va bene ma se questo benedetto file di paging dobbiamo tenerlo attivo sulla nostra macchina come va configurato per capirlo andiamo a fare le stesse operazioni che abbiamo fatto prima per aprire la finestra di gestione e vediamolo insieme la prima cosa di cui ci accorgiamo è che ci sono due possibilità la prima è che la memoria virtuale e quindi il file di paging venga gestito automaticamente da windows e la seconda che possiamo impostare delle dimensioni personalizzate per capire cosa sia meglio sul nostro computer dobbiamo imparare quattro regole fondamentali la prima regola dice che se sul tuo computer è installato un solo hard disk soprattutto se questo non è un disco ssd va assolutamente evitata la gestione dinamica del file di paging che per intenderci è quella che windows fa autonomamente quando è impostato in questo modo quindi se hai un solo disco soprattutto se questo disco è un disco meccanico andrai a disattivare questa voce e sceglierai la voce dimensioni personalizzate a quanto debbano ammontare le dimensioni in questo caso del file di paging ce lo dice la seconda regola che dice che le dimensioni massime teoriche del file di paging non possono mai in nessun caso superare il doppio della memoria ram andremo quindi in questa finestrella a digitare una quantità doppia rispetto alla nostra memoria ram ad esempio io ho 8 gigabyte quindi imposterò come dimensione iniziale 16 gigabyte e anche come dimensione massima sempre 16 gigabyte le dimensioni massima e minima in questo caso dovranno coincidere per evitare la frammentazione del file di paging che verrà creato in un'unica soluzione e resterà sempre quello fatto questo cliccheremo sul pulsante imposta e successivamente su ok per poi riavviare come di consueto il nostro pc la terza regola dice che il file di paging dovrà essere posizionato se come nel mio caso abbiamo più di un disco sul disco più veloce ad esempio nel caso di questa macchina il disco c è un disco meccanico mentre il disco e è un disco ssd andremo quindi a togliere il file di paging dal disco c e andremo ad impostarlo con le dimensioni che abbiamo visto prima quindi il doppio della memoria ram sul disco ssd bisogna a questo punto tener presente una cosa ovvero che se sceglieremo di utilizzare un disco ssd per ospitare il nostro file di paging dobbiamo essere ben inconsci del fatto che il file di paging posizionato su quel disco ne andrà a ridurre un pochino la vita tuttavia niente paura perché se disponi di un disco ssd di ultima generazione devi sapere che è stato implementato un metodo di randomizzazione delle scritture per cui l'usura viene spalmata gradualmente su tutto quanto il disco allungandone considerevolmente la durata il che ci porta dritti dritti filati alla quarta regola che ci dice che quando abbiamo due dischi laddove sia possibile conviene sempre posizionare il file di paging su un disco diverso rispetto a quello di sistema per sfruttarne il parallelismo nel caso quindi in cui il tuo disco più veloce fosse il disco di sistema e il secondario fosse un pochino meno veloce ti converrà comunque utilizzare il secondario due piccole precisazioni prima di terminare la prima è che la dimensione minima e massima del file di paging andrebbe valutata caso per caso quindi al di là di quello che ti ho mostrato in questo video sarà sicuramente opportuno fare degli esperimenti la seconda invece che non abbiamo parlato scientemente della possibilità di demandare a windows la gestione dinamica del file di paging questo perché questo tipo di gestione è sicuramente quello più tranquillo che consente di non commettere errori tuttavia non è quasi mai la soluzione migliore se si vuole fare un'ottimizzazione approfondita del proprio pc quindi il mio incoraggiamento è sempre quello di fare diverse prove fino ad ottenere la combinazione ideale nel tuo caso specifico prima di concludere se ti interessano altri aspetti relativi all'ottimizzazione del tuo pc ti lascio linkato qui in alto il video in cui ne abbiamo parlato che copre tutti gli altri aspetti ma solo purtroppo marginalmente quelli relativi al file di paging cosa che mi ha appunto spinto a realizzare questo video di approfondimento che hai appena guardato ed eccoci ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per giuseppe piccardi mario zorzetto sandro zanetti gaetano pirone per essersi abbonati al canale ma un ringraziamento specialissimo va a giuseppe velardo che invece ha aumentato il suo livello di abbonamento entrando di diritto tra i distinti gentiluomini quindi caro giuseppe mi levo ancora una volta virtualmente purtroppo il cappello davanti a te ma non abbiamo terminato perché ci sono da ringraziare anche angelo b e fabio di santeodoro per i loro generosissimi super grazie grazie infinite a tutti i ragazzi da parte mia e naturalmente di tutta la community per il vostro supporto ma l'ultimo ringraziamento sai bene che è sempre quello destinato a te che hai guardato questo video e mi hai fatto compagnia fino a questo punto per cui come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima